Carolina, devi essere contenta della tua prestazione oltre che della vittoria. Moltissimo, specialmente anche per come abbiamo giocato di squadra. Finalmente una vittoria. Finalmente una buona difesa. Sì, assolutamente, da parte di tutte. E anche qualche buona soluzione in attacco. Esatto, quello non manca mai. Senti, ci voleva comunque una vittoria finalmente. Sì, per riportare soprattutto la fiducia nella squadra e per unirci ancora di più. Senti, adesso si gira pagina? Beh, speriamo. Cioè, noi crediamo proprio di sì. Poi si vedrà, dobbiamo mettere tutte le energie possibili. Ti faccio una domanda extra. Tua sorella come sta comportandosi? Beh, mia sorella si sta comportando bene. Si trova bene in squadra, gioca ed è abbastanza felice. Veronica Sametz, finalmente una vittoria e anche una buona prestazione tua. Sì, sì. Finalmente abbiamo giocato discretamente, abbiamo iniziato molto bene. Anche la difesa, insomma, è stata convincente. Poi abbiamo avuto un momento di calo, però siamo riusciti a fare squadra, come ci ha chiesto non sono allenatore e devo dire che stiamo progredendo e sono contento comunque dei miglioramenti che stiamo facendo. Ti sei presa anche delle soluzioni personali importanti? Sì, esattamente. Diciamo che sono in un percorso di acquisizione di fiducia in più, però pian pianino, secondo me, si riuscirà a fare sempre meglio. Senti, adesso si gira pagina? Assolutamente. Per un'altra vittoria, si spera.